E' un 28enne di origini ganesi ad avere accoltellato mercoledì scorso nella tendopoli di San Ferdinando il 25enne Shabu Abu al termine di una lite. Il ragazzo era stato ricoverato immediatamente all'ospedale di Polistena. La ferita al torace gli aveva infatti causato una forte perdita di sangue. Le indagini dei carabinieri di San Ferdinando avevano portato ben presso ad individuare il colpevole che però nel frattempo era diventato irreperibile. Poi ieri invece il ritrovamento del ganese che si nascondeva all'interno di una baracca. Dichiarato in stato di arresto e sottoposto ad un fermo di indiziato di delitto da parte della Polizia giudiziaria è stato associato alla casa circondariale di Palmi. Quello avvenuto non è che l'ultimo caso di violenza che si verifica all'interno della tendopoli. Un accampamento che ospita in condizioni di estremo disagio circa 2000 persone con continue situazioni di instabilità e pericolo per la salute e la sicurezza. E di poche settimane fa il grido di allarme lanciato da medici per i diritti umani e le cose rischiano di peggiorare ora che nella baraccopoli iniziano ad arrivare le donne. A giugno scorso un carabiniere intervenuto per sedare una lite vedendo uno degli ospiti della tendopoli rivolgergli contro un coltello aveva reagito sparando ed uccidendo l'uomo. La scorsa settimana invece era divampato un incendio che aveva causato tre feriti di cui uno di questi una donna molto grave. Tiziana Bagnato per la Cineus 24.